Tutorial su come uccidere una persona Vi elencherò delle varie possibilità di omicidio Ditemi che non l'ha detto davvero Primo, andare a casa della persona che vuoi uccidere con la scusa di prendere un caffè e ucciderlo Questa è ben studiata eh, mi piace Due, andarci di notte e ucciderlo senza che lui sappia niente Vabbè, anche se lo sa che cambia, scusami un attimo E per ultimo, tre, andare a casa di lui con la... con la... Cosa? Con la... con la... Che, che, che cosa? Con la finta di essere un postino e ammazzarlo Scusi signora, è il postino E' in pratica la seconda, quella di andarci di notte E vi dico gli occorrenti che servono Per prima cosa serve un'arma Beh no, sinceramente l'idea del caffè mi piaceva Però è deciso questo, andiamo per la seconda Seconda ed ultima cosa Serve una maschera per non farti riconoscere Pronto! Adesso iniziamo con lo sketch V! No, aspettate, c'è lo sketch Questo me lo devo vedere Mi dispiace ma è giunta la sua ora Ma io non ho fatto nulla di male Fermo, non ha fatto niente di male Fermo! Non voglio quello che sto facendo Mi ha riporto la tua ora Ma dai, no, cioè, che cos'è? Il cartoncino per felsare No, vabbè Ed eccoci qui alla fine del video Come sempre continuate a seguirmi su Instagram Su Facebook Se volete farmi qualche domanda C'è Ask E su YouTube